Ogni giorno a Milano si verificano 30 incidenti e la conta dei feriti quotidiana parla di una media di 25 persone. Ogni mese sulle strade del capoluogo si registrano 4 morti. L'ultimo in ordine di tempo è stato il 18enne Karl Nasr, rimasto schiacciato da un'auto in Viale Umbria, mentre a piedi aspettava di attraversare la strada sul marciapiede. Numeri allarmanti drammatici ma che, se letti in un'ottica di lungo periodo, fanno segnare un miglioramento. Certo non ci possono essere numeri buoni quando si parla di morti e feriti per le strade. Noi a Milano abbiamo come polizia locale 40 chiamate ogni giorno per incidenti e chiaramente di differente gravità. E gli incidenti poi gravi come quelli che abbiamo visto purtroppo in Viale Umbria, a cui ho perso la vita Karl, ce ne sono. È vero che in questi ultimi 10-12 anni gli incidenti sono diminuiti e gli incidenti conferiti sono diminuiti. Nelle strade dove abbiamo messo gli autovelox il numero di incidenti conferiti si è dimezzato, metà. Servono dunque strumenti all'altezza per evitare che episodi come quello di Viale Umbria non si verifichino più. A Milano prima del 2011 c'erano 3 autovelox, oggi ne abbiamo 18 e in autunno ne metteremo altri 2. Non c'erano telecamere dei rossi. Oggi ce ne sono 8 telecamere agli incroci e ne metteremo altre 8. E oltre agli strumenti noti ci sono anche tante possibili sperimentazioni che il Comune di Milano sta valutando. Abbiamo chiesto anche di sperimentare, esiste in Australia, questo tipo autovelox con la telecamera che vede se tu stai messaggiando. In questo modo vorremmo riuscire a diminuire ancora. Altre telecamere pronte a far scattare le polemiche di chi da sempre si schiera contro Palazzo Marino accusandolo di voler solo far cassa sulla pelle dei cittadini. Chi dice che vogliamo far cassa? No, noi vogliamo aiutare ad avere sempre meno persone che in strada sono feriti o lasciano la vita come è successo a Carlo.